Anche i bambini e i ragazzi di Maenza hanno finalmente un'attenso struttura polivalente per praticare sport. L'opera è stata inaugurata con grande soddisfazione dell'assessore provinciale allo sport che annuncia tutti i 33 comuni finalmente hanno almeno una struttura sportiva. Sì, sicuramente oggi abbiamo messo quest'alta banderina in elaborazione di questo bellissimo impianto qui a Maenza. Possiamo dire che il percorso che abbiamo iniziato con il Presidente Gusani, ormai da circa 10 anni, sta esortendo fortemente i propri effetti. Siamo arrivati in tutti i comuni a fare un impianto, in qualche comune stiamo partendo anche a fare il secondo impianto perché siamo convinti che valorizzare l'attività sportiva per i ragazzi, per le nuove generazioni significa fare un grosso servizio sociale di prevenzione anche perché no, da togliere brutti pensieri ai nostri ragazzi oltre che naturalmente il fare sport è sempre un aspetto positivo per il corpo e per la mente. Ma cosa significa avere un luogo di aggregazione sportiva? Il Presidente della provincia non ha dubbi. Noi intanto continuiamo a realizzare opere, a fare impianti sportivi in ogni comune, anche in un momento di grande difficoltà degli enti pubblici, dove la parola d'ordine è che mancano risorse, tutti piangono e molti si fasciano la testa. Noi continuiamo a fare il nostro dovere, convinti che le risorse che abbiamo a disposizione sono più che sufficienti anche per realizzare opere come questa. Grazie.